Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Montepruno Giovani, dopo l'Assemblea dei Soci dello scorso 3 maggio, nel corso del quale si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali, nella serata di ieri, 4 giugno, si è riunito per la prima volta con i nuovi membri entrati a far parte del gruppo per procedere con la definizione dei progetti e delle attività che il sodalizio presieduto da Sebastiano Greco si prepara a svolgere in quest'anno. Ad ospitare la riunione la Sala Consiglio della sede amministrativa della BCC Montepruno a Sant'Arsenio, con la presenza anche del Direttore Generale Michele Albanese, che ha voluto condividere con i giovani il momento a dimostrazione della vicinanza e del sostegno dell'Istituto di Credito ai ragazzi e alle attività che l'Associazione porta avanti al fine di favorire la presenza e la crescita culturale, oltre che sociale e lavorativa, dei giovani sul territorio, individuando così adeguate soluzioni per poter contribuire in qualche modo al rientro di giovani cervelli e ad evitare la partenza di altri che con il giusto supporto dell'Istituto di Credito potranno anche scegliere di non partire e di mettere le loro competenze al servizio del territorio. E' questo uno dei principali motivi che ha portato nel 2012 alla nascita dell'Associazione, oggi presieduta da Sebastiano Greco, che è stato riconfermato lo scorso 3 maggio alla guida del sodalizio. Nel corso dell'incontro il presidente Greco ha illustrato nella sua relazione la roadmap che l'Associazione Montepruno Giovani seguirà nel corso del triennio e gli scopi da perseguire, partendo dai temi principali quali solidarietà, cultura, formazione e intrattenimento. Il direttore generale albanese, dal canto suo, dopo aver portato il saluto dell'intero Consiglio d'Amministrazione, ha anche sottolineato il valore che conferisce all'Associazione e il piacere di condividere il percorso del gruppo con tanti giovani volenterosi. È stato per me un grande piacere essere presente alla prima riunione del direttivo dell'Associazione Montepruno Giovani, ha dichiarato albanese, congratulandosi ancora una volta con i neoeletti e con il presidente Sebastiano Greco. Questa riunione, ha proseguito, rappresenta un'occasione per condividere idee, definire obiettivi e pianificare attività che contribuiranno a rafforzare il legame tra la Banca Montepruno e i giovani del nostro territorio. La roadmap presentata dal presidente Greco traccia un percorso chiaro e ambizioso che abbraccia temi fondamentali come la solidarietà, la cultura, la formazione e l'intrattenimento. Vorrei ribadire, ha sottolineato ancora il direttore albanese, l'importanza di avvicinare e coinvolgere i giovani ascoltando attentamente le loro esigenze e aspirazioni. È nostra responsabilità mettere in campo iniziative che favoriscano il loro inserimento nel mondo del lavoro, offrendo opportunità concrete di crescita personale e professionale. L'associazione Montepruno Giovani ha concluso «Deve camminare con i propri piedi, promuovendo i valori importanti della nostra banca, ossia integrità, responsabilità e impegno verso la comunità. Solo così potremo costruire un futuro solido e prospero per tutti». Dal direttore Michele Albanese non sono poi mancati gli auguri per un proficuo lavoro assicurando il pieno supporto della direzione generale della BCC Montepruno dicendosi certo che l'impegno e la dedizione di tutti porteranno grandi successi.